Facciamo vedere l'Alda Merini con chi si rapporta, con quali giovani bellezze si rapporta, perché poi la signora dice ma io sa... Oh questo qua è uno sfaticato nato, però adesso è il figlio di Paolo Mosca, che è un giornalista che... Adesso facciamo sentire cosa fa lo sfaticato. Ah facciamolo da stupendo, io suono le carte. Oh bello, si! E ora si preve ogni giorno, e allora solo, e intorno al mondo. E se tutti i ragazzi, i ragazzi del mondo, volessero una volta diventare marinai... e si farebbe un grande ponte e si farebbe un grande ponte e si farebbe un grande ponte e se tutta la gente si desse un amore e se mentre veramente si desse un amore allora si gavate un pezzo e intorno al mondo di te Adesso andiamo sull'allegro, facciamo quella porta romana fatta da te, oppure facciamo la mia bella madonnina, porta romana bella, porta romana, che sono le ragazzine che ce la danno. Una volta che c'è, poi c'è la danno, c'è la danno qua con il monte e poi la mano, e sette, 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 fanno ventuno, arriva la volante, non c'è nessuno, prima, prima. Aspetta, questa qua è stata una... Quando è morto il Vanni, io ero qua che piangevo e gli dico, ma tu cantami una canzone per Vanni e questo va a maravone per me, 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 tu non, ma la femmina? Ma la femmina, ma la femmina, ma la femmina, ma la femmina. Ma facciamo quella al tuo preferite. No, cantami una manavone per me, va a maravone per me. No, cantami una manavone per me, va a maravone per me, va La femmina, ma la femmina, ma la femmina, mi piace tanto. Se non mi tolgo, non mi tolgo, non mi tolgo, non mi tolgo. Basta! Ciò che hai fatto a me, io t'ha voluto uccidere, e tu lo sai per me. E' così? Si, si si. Una spaziole di Amiarini, eccellente. Ah si? E' una carezza di un pugno, è bellissima, facciamola. Stringo le mie braccia. E' bellissima. Facciamo qui per Mi Mi? Adesso facciamo il cambio. La signora viene a suonare, vedete com'è suona. Oh si! Che meraviglia! Che meraviglia! Che meraviglia! Che meraviglia! Che meraviglia! Che meraviglia! Vai a suonare che... Che regalo che ci fa la signora! Lei è lei! La cornacca, apri il becco che poi ti porta via il formaggio. Che n'è? Che meraviglia! Che meraviglia! Grazie a tutti.